Ciao a tutti caro amico e amico del seno della bilancia, eccoci qui in mia compagnia per conoscere le vostre previsioni per la settimana che va da noi di 3 a domenica 9 ottobre 2022. Grazie di cuore per esserci sempre, se vi va iscrivetevi al canale attivando la notifica attraverso la campanella in alto a destra. Vi ricordo che queste sono energie generali globali non possono quindi valere per tutti voi. Incominciamo con la sfera di rapporti interpersonali, amore, amicizia e vita familiare. Vado a pescare quattro carte da quattro mazzi diversi. Vediamo un attimino, concentriamoci. Abbiamo la carta del cavaliere d'aria che poi sarebbe il cavaliere di spade. Poi vediamo un attimino di andare avanti con il secondo messaggio. Abbiamo l'asso di coppie. Poi l'oracolo dell'età romenna. lo studio e l'approfondimento. E infine vi presento il mio nuovo oracolo, l'oracle belline del tagomen. Un oracolo nato da pochi giorni. Mettiamo subito all'opera. Vediamo per i rapporti interpersonali cosa succede. L'incidente. Ok, vi ricordo che sono energie generali, globali, non possono valere per tutti. Allora qui c'è area di approfondimento, nel senso che se inizierete un nuovo rapporto, se avete iniziato da poco una relazione, qualunque esso sia, qui c'è il fatto di andare più a fondo in questa relazione perché volete conoscere meglio l'altra persona. ok? Volete un po' studiare, vede fare diciamo i cosiddetti investigatori per capire anche alcuni rati caratteriali che sono un po' nascosti, che magari l'altra persona non vi ha fatto percepire. Con l'asso di coppie per i single c'è la possibilità di un nuovo inizio, di una nascita anche emotiva di un rapporto e potrebbe essere un rapporto che nascerà con un uomo, una donna, dei segni di area, gemelli, bilancio acquario, oppure che portano l'ascendente in uno di questi segni di area. Ovviamente il segno, non è detto che sia quello, però potrebbe anche essere. C'è un maggior impulso da parte vostra nel conoscere in amicizia o anche perché no, attraverso proprio l'espansione di un sentimento nascente. Quindi l'asso di coppie è un qualcosa di nascita, qualcosa che pian piano nasce e che poi può prendere forma. Non è detto che si sviluppi, però se nasce è giusto vivere a pieno quel rapporto e ovviamente andare sempre più a fondo in questa conoscenza che può essere anche avvenuta durante le settimane o i mesi precedenti. È una persona comunque questa determinata, è una persona anche intelligente, una persona idealista, una persona anche creativa, ok? Quella con la quale vi approccerete durante questa settimana. Qui un altro messaggio è che se siete persone, se siete ragazzi che stanno affrontando un percorso di scuola, c'è una figura giovane, cioè una figura della vostra cerca familiare o anche una figura delle vostre conoscenze che potrebbe aiutarvi nel vostro percorso di studio con le classiche ripetizioni. Magari incomincerete o andate avanti a fare delle ripetizioni su una tematica oppure una materia che o non vi piace oppure che non capite in toto. Qui poi mi riferisco a una parte di voi. Questa carta è una carta molto forte, strong. Non dobbiamo ovviamente demonizzarla, però è una carta che mi parla di destrutturare qualcosa. Un rapporto che in alcuni casi deve essere rivisto, deve essere ritoccato. In alcuni casi può nasce un rapporto, ma come nasce muore questo rapporto, perché magari vi rendete conto dopo pochi giorni che non è la persona adatta a voi, ok? Questa carta poi mi parla di difficoltà che potrete incontrare nell'ambito familiare, nell'amicizia o appunto con questa persona di segni d'aria. Una difficoltà a portare avanti questa tipologia di rapporto, ok? Quindi qua potrebbe esserci proprio un crollo delle vostre certezze, delle difficoltà, una crisi e in alcuni casi la rottura, la separazione da questa persona. Dopo anche un attento approfondimento, capirete che non è la persona adatta a voi, ok? Ma andiamo avanti con la sfera professionale ed economica. Vediamo un attimino cosa vogliono dirvi le quattro carte per la sfera professionale ed economica. Abbiamo la carta della giustizia, quindi collegata all'arcangelo Raguel. Poi vediamo un altro messaggio. Qua anche in amore, scusate, durante questa settimana da puntista lavorativo e economico dovrete prendere delle decisioni in modo eco, in modo giusto, in modo obiettivo. Dovete fare quello che reputate sia giusto per voi e non per gli altri, ok? Mi raccomando. Dovete difendere ciò in cui credete. Il 10 di spade. Infatti qua state affrontando, dovrete affrontare una situazione un po' destabilizzante da puntista lavorativo. Magari siete stati licenziati o voi vi siete licenziati. Oppure c'è un qualcosa che non va nel vostro luogo di lavoro. Siete stati feriti anche proprio nel vostro orgoglio. Siete stati anche un po' pugnalati alle spalle da parte di colleghi che magari facevano un buon viso a cattivo gioco. Ma adesso è tempo di, tra virgolette, far giustizia. Potete anche portare avanti una causa giudiziaria. Una causa legale che può essere correlata all'utilizzo dei soldi. Però dovete difendervi. Dovete difendervi assolutamente anche da accuse che vi faranno persone sul vostro luogo di lavoro o qualcosa che ha a che fare con dinamiche monetarie, economiche. Ma siamo di fronte a un 10, quindi siamo di fronte proprio a una fase finale di questa situazione molto molto impattante, da puntista anche emotivo. Infatti qua vi avverete sfiduciati, sarete sfiduciati in voi stessi perché, ripeto, siete stati feriti anche duramente nella vostra interiorità da una persona o anche da un gruppo di persone. Ok, ma andiamo avanti con l'ultima carta dell'ora colbelline. Abbiamo la carta dell'amore. Ma qua potrebbe essere anche che il vostro compagno oppure il vostro partner potrebbe darvi sostegno, darvi anche un supporto emotivo per superare con più facilità questa fase. Questa fase in cui magari siete disoccupati oppure dovete essere, mi spiace dire, mantenuti. Perché comunque ci sono ancora delle difficoltà da portare avanti e sicuramente grazie anche all'aiuto di questa persona, a voi cara, riuscirete comunque a superarle. Ora vediamo un altro messaggio molto importante, sempre da Mioracoli, per voi, un messaggio molto personale. E vediamo un attimino attraverso un'altra carta che cosa vogliono dirvi. È un messaggio che dovete fare vostro proprio durante questa settimana. Il messaggio da tutto l'arco dei pensieri è questo. L'esperienza è un'ottima maestra di vita. Anche questa fase in parte destabilizzante, soprattutto in ambito economico e professionale, sarà molto importante perché grazie a questa esperienza difficoltosa, questa esperienza sarà, diciamo, una maestra, per voi una maestra di vita. Quindi cercate di cogliere il messaggio che vuole darvi questa carta, ok? Benissimo cari amici, vi aspetto sempre qui sul Tagumet. Ciao a tutti e alla prossima!